sono stato lì a riflettere se cambiare quel livello di ingresso che ti avevo indicato intorno alle 9.20 avevo messo una 14.568 poi ho visto scappare l'ho rimesso a 14.563 poi infine sono i 68 ma lo faccio perché ho una leva molto alta ma andiamo a vedere il quadro grafico a questo un grafico a 15 minuti quando appunto ho iniziato ad analizzare vedevo che si era violato al ribasso un livello supportivo non banale pesatico che vedete collocato proprio dei 14.568 poi a seguire è capitolato anche questo supporto dinamico espresso dalla trendline rialzista il mio intento sarebbe quello di provare entrare in caso di pull back in area dei 14.570 lo stop è inevitabilmente stretto perché l'ho messo a 14.595 per chi usa una leva più bassa meno pazza della scuola mia ecco lo stop andrebbe messo sopra qui a memoria erano i 14.630 punti dove si può mettere lo stop io l'ho messo qui sopra in area 14.595 per non sfasciare completamente le performance della scuola per quanto riguarda l'obiettivo beh vedo in generale un un arrotondamento volendo sfruttare al massimo quello che può essere l'effetto della leva non mi voglio accontentare di poco ma provo a portarlo in prossimità di questi livelli insomma quindi 14.200 scusate ho sbagliato a scrivere in area 14.280 punti quindi ecco su su questi livelli qui insomma un po' di volatilità si arriva cerco di cavalcare questa gamba in termini rischio rendimento ci sta se il risultato viene con la leva che ho messo forse rientriamo in gioco avrei mettere lo ribadisco ancora una volta invidia però ecco vi sono delle variabili ad esempio il fatto che il future adesso ha aperto invidia no e magari se assistiamo già un movimento non mi va a eseguire noi abbiamo la necessità di essere eseguiti qua vediamo i livelli riepilogo nasdaq 100 short 14.568 punti livello d'ingresso 14.595 lo stop 14.280 il target grazie grazie grazie